Parliamo ora di Lombardia con questa scheda della nostra inviata a Palazzo Pirelli Laria Tettamanti sul bilancio di assestamento approvato ieri in Regione. Con 71 votanti, 44 risiedi, 27 no, il Consiglio approva. Il Consiglio regionale Lombardo ha dato così via libera l'assestamento di bilancio 2013 che prevede 280 milioni di euro aggiuntivi per il rilancio della competitività. Tra gli interventi, 100 milioni di euro per modernare le aziende sanitarie, 20 per il fondo socio-sanitario destinato alla famiglia, circa 35 milioni di euro per la dote scuola, 20 milioni per riqualificare gli alloggi Aller e poi ancora più di 30 milioni di euro per le piccole e medie imprese, distretti e imprese commerciali, 10 per i grandi eventi, 5 per le infrastrutture sportive. Inoltre, investimenti pari a 50 milioni di euro per acquistare materiale rotabile ferroviario, 26 per interventi sulla rete stradale, 14 milioni per potenziare le provinciali rivoltane e cassanese, 19,5 per la realizzazione della variante di Morbenio e 5 milioni per l'agricoltura montana.